Il campo basso sprofonda sotto i colpi del Pineto che si afferma 2-1 nel capoluogo. Dopo un discreto primo tempo i rosso-blu spariscono dal campo e concedono tante palle-gola agli avversari che meritano di vincere. Per il campo basso è la quinta sconfitta consecutiva. Debutta come classe 99 il campo bassano Palange per il quale compare una dedica in curva nord mentre alcuni tifosi della Scorrano espongono uno striscione dedicato ai diffidati. Si gioca di fronte a pochi spettatori, circa 300. A Selva Piana c'è poco da registrare all'inizio a parte un piacevole tepore primaverile. Attacco ospite al ventesimo quando la percussione di Gragnoli è stoppata da Del Prete in area di rigore ma con maniere corrette a dire del barese Capriuolo. Un minuto più tardi campo basso in vantaggio. Punizione di Ribeiro e Gomez ad anticipare di testa Giacchetta che esce a dir poco male. Rosso-blu in vantaggio, esultanza sentita da parte di tutta la squadra di casa e del pubblico presente. Reazione immediata degli ospiti. Al ventottesimo grossa palla-gol, taglio interessante di Della Quercia. Incrocia la perfezione Tomassini che fa tremare la traversa. L'azione non si ferma, c'è in area. Esposito che viene ostacolato da Gerardi a dire dell'arbitro. Si è trattato di simulazione del giocatore pescarese. La partita si scuote ed è anche divertente. Al ventinovesimo cross di Balistreri, questione di pochi centimetri. L'impatto di Ribeiro con il pallone. Lupi vivi piace l'asse Salim-Ribeiro-Balistreri che si rinnova al trentanovesimo quando il primo batte il corner. Il secondo effetto ha una rovesciata fuori misura ma apprezzabile. Replica abruzzese al quarantunesimo. Scorribanda sulla sinistra esce Landi. Si va poi a botta sicura Gragnoli a proteggere i pali. Rosso-Blu si trova in quel momento Capozzi che è a dir poco provvidenziale. Un minuto deve passare per il corner di Ribeiro e lo stacco di Del Duca su cui si supera Giacchetta. Finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero. Dopo cinque della ripresa. Episodio da rivedere con Marianeschi che in prima istanza prova il tiro che è ribattuto. A seguire opta per un assist a Gragnoli che segna il pareggio. Gol annullato per fuorigioco molto contestato dagli abruzzesi. Al settimo punizione dal limite esatto di Del Duca che calcia. Sulla traiettoria c'è la testa di Balistreri che alza di poco sopra la traversa. Nel Pineto dentro Farias e Ciarcelluti al posto di Gragnoli ed Esposito. Ospiti sul pareggio all'undicesimo. Taglio molto profondo di Zane con la palla che buca la difesa di casa. ed è raccolta da Pezzotti che mette in mezzo per l'arrivo indisturbato di Pomante. È uno a uno. Tutto da rifare per il campo basso. Fase di gara favorevole al Pineto che va vicino al vantaggio al diciottesimo con un colpo di testa della corrente Ciarcelluti sul primo palo. Palla a lato. Dal ventunesimo Foglia Manzillo decide due cambi. In campo Esposito, Lauri e Varsi al posto di Gerardi e Marzano. Sono sempre gli azzurri ad apparire più in palla. Al ventiseiesimo angolo di Marianischi interviene Farias che ha il difetto di non inquadrare la porta da pochi passi. Il campo basso ha la grande pecca di arretrare moltissimo mentre gli ospiti vogliono la vittoria a tutti i costi. Al trentaduesimo nessuno ferma Farias. Il suo tiro non è parato da Landi. Segna Di Renzo ma tutto non vale per fuorigioco del numero 30 ospite. Entra anche Fagnani, altro lupetto rossoblu della Juniores al posto di Palange. Incredibile al quarantatresimo angolo di Pezzotti. Testa del solitario Mariani. La palla incoccia il palo. Sfortunata la squadra di Amaolo. Al novantesimo incredibile quello che accade. Punizione di Pezzotti. Cade Varsi in area. La palla giunge a Mariani che effettua un assist messo in rete da Capozzi. il quale voleva anticipare Tomassini. Pineto incredibilmente in vantaggio ma al gol ci ha pensato di fatto il campo basso. Tensione altissima al triplice fischio del direttore di gara. I giocatori di casa si buttano a terra disperati. Qualcuno è in lacrime. Il pubblico fischia sonoramente e contesta il presidente Leone anche fuori dai cancelli dello stadio. La situazione rimane molto critica e delicata. Leone in una conferenza stampa annuncia a fine gara che la proprietà lascerà il campo basso al termine della stagione. Anche i tifosi rosso-blu chiedono un confronto agli stessi giocatori che avviene più di un'ora dopo la fine della partita.